Ciao! Oggi vedremo la maglia del Real Madrid, la prima maglia, la maglia di casa, per la stagione 22-23, quindi la prossima, in edizione player, quella identica a quella indossata dai calciatori. La divisa casalinga del Real Madrid per il 2022-23 sarà, come di consueto, prodotta da Adidas e riporta una combinazione di colori classica ma straordinaria. Dopo più di un decennio, la maglia di casa torna a combinare l'iconico colore bianco del terno con il nero e il viola. Per la stagione 22-23, Adidas opta per un colore viola pallido. Il logo Adidas e il logo dello sponsor sono neri, le tre strisce light purple. Il kit casalingo del Real Madrid viene fornito con un colletto abbottonato. Alcuni sottili stemi del Real sono impressi sul tessuto. La maglia autentic è la versione indossata in campo dalla squadra. La vestibilità più aderente rispetto alla versione fan è progettata per il fisico dell'atleta. Avevo già visto la versione fan di questa maglia e devo dire che in versione player, secondo me, è un po' più bella. Infatti questa volta do 4 stelle. Una maglia fatta veramente molto bene. Peraltro sempre di un fascino incredibile. La maglia dei campioni d'Europa, la maglia della squadra più importante probabilmente del mondo che ne vogliono dire le altre. La maglia comunque fatta benissimo. Era un po' che non provavo delle versioni player. Questa è veramente di una qualità incredibile. Al costo che vedete qui sopra, altrettanto incredibile. Fatta molto bene, i colori sono perfetti, le patch, la trama della maglia veramente molto bella, visibile spero nei dettagli che avete appena visto. Che dire, trovate in descrizione tutti i riferimenti per comprare la maglia e i link per poter aiutare il canale a fare prossime recensioni. Ora prima di lasciarvi, come al solito, se potete regalarci un like e iscrivervi al canale per aiutarci a crescere. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player. Grazie a tutti!